Musica Bentornate e bentornati con le previsioni a cura di METU-1. Dal satellite notiamo che l'attepressione insiste ancora sull'Europa centrale. E sull'Italia garantendoci giornate soleggiate e più calde. Lentamente questa tenderà a spostarsi verso i Balcani. E ciò potrebbe favorire l'ingresso di correnti più instabili dall'Atlantico. Che nei prossimi giorni porteranno a un momentaneo e veloce peggioramento del tempo sulle aree tirreniche e a nord del nostro paese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre due regioni per venerdì 30 settembre. Al mattino, fresco e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio un po' di nuovosità transiterà solamente sulla Basilicata, sulla Puglia centrale e zone interne del Salento. Ma senza rischio di precipitazioni, su nessuna aria. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno in ulteriore aumento con punte anche di 26-27 gradi nelle zone interne del Foggiano e del Tarantino. Le minime stazionarie o in leggero rialzo. I venti risolteranno variabili o deboli dai quadranti meridionali. I mari, calmo l'Adriatico, poco mosso lo Ionio. Per il nostro coincidito appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Alfonso Zuccalà, per lo splendido tramonto di Gallipoli. Se volete inviarci la foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappola, oppure agli email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!